Ciao muori, buongiorno! Buongiorno, stai fuori! Tengo le bodyguard fuori che dopo lei si intriga per tutto, no? Non mi rendo conto. Buongiorno. Buongiorno. Sì, ero qua perché cercavo una robetta, una robetta per poter portare la famiglia, no? Qua nel TLT, territorio libero di Trump, no? Certo. Porto solo la famiglia e adesso cercavo delle robette modeste, no? Perché sennò si monta la testa. La garage è sempre curata. Bravo! Cercavo una robetta per mia mamma, siccome sono io usato per quella strada con i scoi, quella bella, quella bravo, sono io usato per quella lì, ho visto che se è un posto umile, bianco, che è bello, mia mamma che piace quella roba, casa bianca, se sa che i genitori si vantano con gli amici, se sta casa bianca sono in cima e sta roba... Ma stai parlando del castello di Miramare? Quella, va bene. Ascolta, quanto ti pensi che vien per tirar via una R? Che così fanno il castello di Miramare? Ma non si puoi fare quello? Ma non si puoi, ma non non si puoi, ma non lo so. Non si puoi, ma non lo so. Ascolta, ho visto un altro posto che potrebbe andare bene anche per per Melania, per la moglie, non è che la fa le sue robette, c'è un posto, un posto, un posto, un posto, un posto, un posto, un posto in superaria un pochettino qua qua, che si è… queste scale, tante, grandi, si è tutto bianco, grandi, si è piena di muleria che va sui zoo che è un po' come da fastidio quello. Si è piena di muleria che va sui zoo. l'università, è un compasso dell'università. Tanto non serve niente, insomma, se mi faccio un mio anno che ciò che ascolta. Guardi, non sto mese non avevo l'università, purtroppo non avevo. E' una robetta per trampolini? Se è una robetta per trampolini? Villa con piscina che serve? Trampolini, se mio figlio. Ah, pensavo che era trampolini! Ma che bell'idea! Ma complimenti! Visto quella roba alta, dritta, che lui che piace l'altezza, ma non vuole, e se è umile, se è umuletto, tranquillo. Quella roba succa la lucetta. E' il faro della vittoria! Quella roba è il nome, il faro del trampolini. Questa vittoria era un po' comune. Lo avevamo, ma non è zendavia, purtroppo. Zendavia? Sì, certo, certo. Mi dispiace, mi dispiace. Cosa vuoi fare? Non so, una roba che capisce anche per... Guardi, per lei che avevamo, non so che... Guarda, se aveva questa, questa è umile, umile da 700 metri quadrati. Villa da 700 metri quadrati con Erben. Questa non è male. No. Questa non è male, sai perché? Perché c'è il pincher del mio figlio che c'è sempre un po' con l'onghi di dove metterlo. E lui se non c'è da una roba che c'è almeno dopo i servizi... Capisco. Rompito. Capisco, capisco. Capisco. C'è una roba intenibile. Può andare bene. Guardi, c'è solo 2 milioni e 6. 6. Boh, va bene. Però sto giro che scalo dalla paghetta del piccio. Perché basta questa roba, no? Beh, fa bene. Sono una buona e mica. Non mi che tiro la giro dalla paghetta. Boh, vi mando i matti che paga. Non c'è problema. Va bene. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Se vediamo, ciao. 2 milioni e 6. Fatto. Unito.